Salve sono Cinzia, gestisco questo ristorante in via Montebianco, si chiama Retro Augusto. La cucina è una cucina tradizionale mediterranea e punta sulla qualità delle materie prime sia per quanto riguarda il pesce che la carne. Oggi vi serviamo un antipasto, un crudo di pesce, un trittico quindi formato da salmone, branzino e tonno con un filo di olio evo. Ho un'insalata di carciofi crudi naturalmente che vengono acidulati con del limone, olio e speck croccante. Per quanto riguarda i primi potrò farvi vedere un primo base di pesce, un tagliolino al nero di seppia su una culisse di peperone giallo e branzino. Per quanto riguarda invece la terra abbiamo un risotto, un risotto alla raparossa con crema di pecorino. Per secondi vi farò vedere invece un secondo a base di pesce, un filetto di branzino servito con del purè a profumo di timo e verdure al vapore. In alternativa una parmigiana di zucchina servita con una vellutata di pacchino e basilico. Per dessert invece vi farò vedere un tiramisù fatto naturalmente da mio figlio il pasticcere, poi uno sporca muso che è una sfoglia scomposta con della crema chantilly e frutti di bosco. Per quanto riguarda i vini puntiamo principalmente sui vini pugliesi, in particolare un negro amaro burdi della cantina Duca Guarini. Un saluto a tutti gli amici di Love Resto e vi aspetto qui a casa mia.